Ciao a tutti! Oggi vi porto in un viaggio straordinario, un viaggio che intreccia passione, innovazione e un pizzico di magia. Stiamo parlando di Andrea Cartotto, un autentico pioniere dell'educazione digitale. Andrea non è un semplice insegnante di tecnologie dell'informazione e della comunicazione. È un innovatore, un visionario, che ha rivoluzionato il nostro modo di concepire l'istruzione. Immaginate di trovarvi in una classe dove la tecnologia non è solo uno strumento, ma un ponte che collega la teoria alla pratica. Un luogo dove ogni lezione diventa un'occasione per sviluppare competenze che dureranno per tutta la vita. Ecco cosa Andrea realizza quotidianamente. Nel 2023 Andrea è stato riconosciuto dalla Camera dei Deputati come uno dei cento leader dell'innovazione educativa in Italia. Non è un riconoscimento da poco, testimonia il suo impegno e la sua immensa passione per l'educazione. Ma come è cominciato questo viaggio incredibile? Tutto è nato da una semplice domanda. Come posso fare la differenza? Da quel momento Andrea ha scelto di unire pedagogia e tecnologia, dando vita a un metodo di insegnamento coinvolgente e stimolante. Andrea crede che ogni studente possieda un potenziale sconfinato e attraverso l'uso intelligente della tecnologia riesce a far emergere il meglio da ognuno di loro. Non si tratta solo di imparare a usare un computer o un tablet, si tratta di sviluppare pensiero critico, capacità di problem solving e creatività. Ogni giorno Andrea si impegna per creare un ambiente di apprendimento inclusivo e stimolante. Un luogo dove gli studenti non solo imparano ma crescono come individui. Immaginate un mondo in cui ogni studente è pronto ad affrontare le sfide del futuro. Un mondo in cui la tecnologia viene utilizzata per potenziare, non per sostituire. Questo è il sogno di Andrea. E non è solo un sogno, è una realtà che Andrea sta costruendo lezione dopo lezione, giorno dopo giorno. Educatori, lasciatevi ispirare dal percorso di Andrea Cartotto. Andate oltre i confini dell'aula tradizionale e abbracciate le infinite possibilità offerte dalla tecnologia. Perché, come Andrea ci insegna, l'innovazione non è solo una parola, è un impegno, è una passione, è il futuro dell'educazione. Grazie per avermi accompagnato in questo viaggio emozionante. E ricordate, il futuro dell'educazione inizia oggi con ognuno di noi. A presto!